Tre calciatori che hanno delle fobie assurde! La terza è veramente agghiacciante. Come primo abbiamo Phil Jones, cui la sua paura è quella di prendere l'ascensore, però solo quando è all'estero, non quando è in Regno Unito. Il tutto perché durante una vacanza in Grecia da adolescente è rimasto bloccato nell'ascensore con i suoi amici, esperienza che lo ha traumatizzato a vita. Poi c'è per ironia della sorte, il polpo Pogba, poco polpo, ma piuttosto pesce fuor d'acqua. Infatti Pogba, nonostante tenti di superarla, ha paura di fare il bagno al mare, dove ci va anche in estate. Però farci il bagno, per carità, non se ne parla proprio. Mentre infine abbiamo Branislav Ivanovic, che nonostante sia nato e cresciuto in Serbia, nota per i suoi ultras tanto amichevoli, ha paura dei fumogeni da stadio. Fobia emersa quando era allo Zenit, mentre festeggiava la vittoria del campionato russo. Inizialmente sembrava una coincidenza, ma in realtà era veramente spaventato.